Le donne ci riguarda tutti, siamo tutti insieme vittime di una degenerazione che offende i diritti umani e mortifica, una crescita sociale costruita faticosamente in decenni di lotta contro le disuguaglianze e contro le discriminazioni. Ma di questa degenerazione siamo tutti involontari complici nella misura in cui non sappiamo offrire alle donne, alle donne violate, maltrattate, offese, abbandonate, dimenticate, reali opportunità di tutela e di affermazione personale. Vogliamo dire come Commissione d'inchiesta sul femminicidio e contro ogni forma di violenza di genere che nella lotta per combattere la violenza contro le donne il ruolo dei centri antiviolenza è un ruolo davvero strategico e prezioso e insostituibile perché nei centri antiviolenza le donne vengono non solo credute, soprattutto accolte e troveranno professionalità, formazione e specializzazione adeguate a sostenerle in percorsi spesso difficili. Non si tratta solo di proteggere in un momento che è quello della violenza, che è anche quello più delicato e di accompagnare la vittima ad attraversare quel momento, ma c'è il prima della vita di una donna e c'è tutto un dopo di una vita possibile che dobbiamo rigenerare. Il primato della persona, il valore della dignità, il riconoscimento dell'alterità come arricchimento rispetto al sé e non indebolimento della propria identità, ma anzi la possibilità di definire la propria identità attraverso il riconoscimento dell'alterità, di arricchire meglio la propria persona. Ecco, tutto questo deve entrare nel processo educativo, nell'offerta didattica, formativa, a tutti i livelli, in tutta la filiera della nostra istruzione nazionale. Finiamola di interrogarci su che cosa avrebbe dovuto o potuto fare una donna per evitare la violenza. Interroghiamoci del perché un uomo si possa sentire in diritto di abusare di una donna senza il suo consenso.